Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del primo pacchetto turistico integrale e integrato dell'Umbria, strutturato su cinque differenziate proposte di visita ideate dai borghi più belli d'Italia e da Borghi Italia Tour Network, agli assessori allo sviluppo economico Cristiana Casaglioni, alla cultura e al turismo Teresa Severini. I cinque itinerari che toccano l'intera regione e ogni sua specificità storica, artistica, architettonica, culturale e spirituale mettono in stretta collaborazione i grandi comuni con i borghi più belli della regione, 245 nazionali e 24 solo in Umbria certificati nella guida i borghi più belli d'Italia, con meno di 15.000 abitanti e un numero importante di strutture alberghiere ed extraalberghiere, ristoranti, enoteche e aziende agroalimentari contrattualizzati per una migliore accoglienza del turista nazionale e internazionale. Il catalogo nazionale dei prodotti turistici, editato dai borghi d'Italia Tour Network, Tour Operator, esclusivista nel settore in collaborazione con i sindaci di 24 comuni certificati, sarà commercializzato dai grandi Tour Operator italiani ed esteri e illustrato a Expo 2015 all'interno del padiglione di Italy, in un apposito desco di rappresentanza dei borghi più belli d'Italia e dei borghi d'Italia Tour Network.